Il gruppo è già formato, si tratta solo di vedere magari uno o due giocatori che possono rubare il posto a qualcuno dei senatori e comunque completare il gruppo anche per fare uno stage di allenamento, alzare il livello in maniera esponenziale. Ci siamo riusciti perché veramente sono molto contento di questi giorni come abbiamo sviluppato questi stage di allenamento.